Buonasera a tutti ragazzi, ben trovati in questo flash video per dirvi una cosa che sicuramente avete già letto dal titolo, però il problema è che non se siamo capiti, cioè io oggi nel video di carriera vi avevo chiesto delle domande per il fuck you time natalizie, quindi per le fuck natalizie, non inerenti al calcio, a fifa, comunque fantasiose, divertenti e la domanda che è stata più riveduta è cosa ne pensi del periodo della Roma? Ecco per evitare fraintendimenti faccio questo video appunto per chiedervi in maniera esplicita, tanto sarà cortissimo quindi non vi costa niente guardarlo spero, per chiedervi in maniera esplicita delle domande divertenti, fantasiose, inerenti al mondo, a tutto quello che volete, considerando che farò il fuck you time natalizio assieme ad altre due persone, saranno il mio cugino ormai lo conoscete, infatti basta fa video con lui, avete ragione, e poi è una ragazza quindi non penso che le ragazze interessi molto cosa ne pensi del periodo della Roma, magari anche perché risponderebbe anche lei, no? Mi raccomando mi affido a voi e niente ci vediamo nei prossimi video in settimana, soprattutto con le facca, a questo punto è bella raga!